Blanca seconda stagione allora siamo qui ovviamente con il regista e due dei protagonisti ma quindi innanzitutto partiamo da Giuseppe insomma tutti si chiedono che cosa accadrà in questa seconda stagione soprattutto nella storia tra te e Blanca e quindi che cosa possiamo raccontare possiamo dire che arriverà una nuova fiamma del tuo passato che insomma creerà qualche problema sicuramente. Guarda dalla domanda deduco assolutamente che tu abbia visto il primo episodio per cui non so quanto poter spoilerare in merito a una possibile diciamo legame più forzatamente amoroso tra lui e Blanca o se sposerà quell'altra roba ma non lo ritengo essenziale a questo punto insomma il giorno prima tra virgolette della messa in onda credo che ci siano degli elementi sui quali approfondire decisamente di più in termini proprio di materia è chiaro che la materia sentimentale che è all'interno ed è parte componente forte diciamo della serie che noi andiamo a raccontare ma credo che sia fatta di tantissimo da tantissimo altro e tra le tante cose questa sicuramente regalerà delle bellissime sorprese questo te lo posso dire però questo sicuramente è una delle sorprese è proprio anche questo inizio thriller ricorda gli attentati dell'11 settembre un pochino con questa questa Genova trasformata da questo nuovo bombarolo della polizia. Beh sì nella seconda sezione di Blanca è sicuramente un pochino spinge un pochino più sulla leva del crime quest'anno c'è un nuovo antagonista forte credibile potente che ci terrorizzerà per sei serate terrorizzerà è proprio la il termine appropriato tra l'altro poi con una tua regia molto visual veramente devo farti complimenti perché non ha niente da invidiare alle migliori serie americane quindi anche che lavoro avete fatto da questo punto di vista? Ti ringrazio un lavoro che abbiamo inaugurato già nella prima stagione era quello di cercare di dare di creare una sorta di diciamo di icona di fumetto cioè Blanca è un personaggio quasi un manga no nella vita che si come dire si incastona in una vita quotidiana di una ragazza che è una diversamente abile che fa della sua disabilità che la trasforma in un'occasione la trasforma in un'occasione per superarsi da un punto di vista tecnico ci siamo messi in una città che è una cornice che sposa perfettamente il crime da una parte dall'altra anche il sentimentale o in una camogli che è estremamente vendibile all'estero pastello che diciamo una delle perle del mediterraneo dall'altra un punto di vista tecnico tutto quell'aspetto che il suo modo di percepire quindi il suo modo di ascoltare il suo modo di percepire che è tradotto nelle stanze nere che sono un po le stanze dove lei è capace di immaginare di ricostruire i casi ma anche di compiere a volte delle vendette visive no è un po anche la stanza dei suoi pensieri dove tu condividi da un punto di vista tecnico abbiamo un po spinto ci siamo sentiti mi sono sentito estremamente libero questo progetto di sperimentare e di e di spingere un pochino sull'acceleratore vale per te come per michele soavi che ricordiamo anche il codirettore di questa serie e poi c'è nanni c'è nanni che insomma è un po la parte più come possiamo definirla quella che può forse alleggerisce anche un pochino si è strano perché l'anno scorso era la parte più dark quest'anno alleggerisce c'è un bellissimo binomio qui una contrapposizione e effettivamente guarda è questa seconda stagione talmente crime che ingloba di nuovo il mio personaggio quindi nanni tra la prima e la seconda fa parte del crime in maniera diversa in che maniera farà parte quest'anno del crime non lo posso dire se non mi licenziano e non mi fanno più lavorare però mi fa mi fa piacere far parte di aver avuto questi doppio punto di vista solo che non lo posso dire dovete guardarlo e su questo concordo allora grazie diamo diamo l'appuntamento con blanca ogni giovedì sul rai 1 perfetto grazie e complimenti grazie grazie a tutti grazie a tutti